Buongiorno, voglio iniziare anch'io con gli auguri al CSMT. Io conosco il CSMT praticamente dalla sua nascita e ho avuto modo di valutarlo prima come imprenditore e poi come rappresentante i Confindustria Brescia e quindi voglio ringraziare questa iniziativa che è stata intrapresa ormai 15 anni fa perché può portare veramente delle grandi soluzioni al territorio bresciano. Come imprenditore sono tipicamente considerato metalmeccanico però è grazie al CSMT che abbiamo portato in azienda le tecnologie digitali e quindi questo è un dato di fatto che Brescia è stata capace fin dall'inizio degli anni 2000 a portare e a vedere dove andava il futuro. Oggi siamo qui a celebrare questo anniversario e a programmare di nuovo il futuro del nostro territorio. Per esperienza vissuta la collaborazione tra industria e università è fondamentale, nel mio caso ha già dato grandi risultati e posso dire che oggi come Presidente di Confindustria Brescia in tantissimi all'interno di Confindustria Brescia come imprenditori crediamo che questa congiunzione di sforzi sia la via giusta per il futuro, se no la transizione ecologica, la transizione digitale che tutti ne parliamo non riusciremo a farla. Un'idea di un qualcosa di più del CSMT ma sempre con lo spirito di far lavorare il tessuto economico e non chiamo più solo il tessuto industriale che rappresento ma so che anche la parte dell'agricoltura e altre entità del sistema economico bresciano hanno bisogno di innovazione e quindi dobbiamo assolutamente come è stato più volte detto fare il sistema, questa idea può essere veramente la soluzione, non sarà facile realizzarla però penso che sia la strada giusta, la strada giusta per intraprendere sfide che il tessuto bresciano dovrà fare come quella del cambiamento della mobilità. Noi dobbiamo portare con iniziative come queste più know-how nel territorio bresciano per fare una vera trasformazione sostenibile nel senso che dobbiamo partire dalla neutralità tecnologica e lì è solo l'industria e l'università che possono trovare la soluzione. Grazie a tutti.